Buona giornata, è proprio vero, chi ama molto può fare molto, può realizzare molto e amare molto in questo apre una infinità di strade, apre un'infinità di attenzioni, ma anche apre un'infinità di riconoscenze. Il fatto di non chiudersi nelle cose, il fatto di avere questo cuore che sa pulsare anche là dove si fa fatica, dove c'è scomodità, dove l'attenzione forse è minima, però guarda come questo cuore che ama alla fin fine diventa l'occasione per scoprire autostrade che forse erano impensate nella propria vita, scoperte che alla fine risulteranno poi essere quelle diciamo così più forti nella propria vita. Allora non smettiamo oggi questo atteggiamento, chi lo sa nelle maniere e nei modi che il Signore ci metterà davanti agli occhi a partire proprio da questa giornata. Il Signore ti illumini e ti benedica. Buona giornata!